Nick, Scanner, Sky di Vincenzo Dritto, con il vincitore Fabio Cosquaglio oggi in Quentin Carzago, corsa velocissima, oltre 44 di media, un vincitore degno di queste gare e perché il livello è sempre curto. Sì, grazie per i complimenti, comunque sì, c'erano 40 minuti più forti, io sinceramente speravo qui mi erano attaccato un pettino per limitare, diciamo, lo dò, il gruppo, siamo riusciti a andare via, dopo metterlo a 3.5m, circa 3.5m, circa 3.5m in due lato, tirando un pochino, una leggera salita un po' più, 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 un po' più. Vittoria numero di quest'anno? 25 tra strada e vittoria. 25 vittorie e quanti anni è che il prezzo di strada? 25 ma una volta un po' meno, diciamo, ci siamo fondamentali in fronte qua, sempre, 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 sempre! Poi anche oggi, quando il livello è alto, si trova così, così la tanta è un'ampione della fa. Bene, e qui gabbiamo l'anno prossimo? L'anno prossimo non lo so ancora, siamo ancora a giugno e non lo so, magari. Temere che cambiare, quello sì, e subiviamo. Bene, da Bike Channel, ricercito detto anche criminal, chiudiamo. Manca Drago!